Il ministro Tommaso Chiappini, ci siamo sentiti in conferenza stampa giovedì sera al termine dell'ultimo allenamento settimanale. Volevi una grande prova di carattere dei tuoi ragazzi, io credo che tu sia soddisfatto. Sì, oggi era necessario dare delle risposte, darle sul campo. Era una partita molto delicata perché comunque venivamo da una sconfitta pesante contro l'Olympus. C'era bisogno di reagire, c'era bisogno di mettere tanto carattere in campo. Oggi i ragazzi si sono comportati al meglio, hanno sempre dato il massimo fin dall'inizio, sono stati sempre molto concentrati, molto dentro la partita. Poi le qualità le abbiamo, quindi se noi riusciamo a mettere questo grado di concentrazione sicuramente i risultati non possono essere positivi. Io ho immaginato, ho pensato qualcosa quando mancavano un paio di minuti al termine del primo tempo. Te cosa hai pensato quando hai visto un po' di rallentamento? In occasione poi è venuto anche il gol loro. Ho pensato che questa squadra, come ho detto alla fine del primo tempo, non può abbassare i ritmi, non può permettersi di giocare sotto ritmo perché non ha le caratteristiche per fare questo tipo di gioco. Dobbiamo riuscire a mantenere un'intensità costante per 40 minuti perché altrimenti andiamo in difficoltà. Ho detto questo ai ragazzi e credo sia stato quello che poi si è visto perché siamo andati 3-0, probabilmente ci siamo rilassati un attimo, anche per la stanchezza perché comunque non è facile tenere sempre i ritmi altissimi per tutti i minuti della gara. Però ecco, credo che poi siamo rientrati in campo molto bene e abbiamo capito quello che non dovevamo fare e infatti abbiamo subito fatto il quarto gol. Vorrei concludere con un vicendo, non per dare una nota di merito ai tuoi ragazzi in occasione della partita della settimana scorsa a venerdì a Roma, però questo Olympus contro l'Atlante io non l'ho vista, per l'altro non sono in grado di dare un giudizio come i tuoi ragazzi hanno approcciato la gara, però questi ragazzi oggi hanno vinto a Merano contro una delle formazioni che sembrava andarsi per la maggiore. Io l'ho detto da subito che secondo me l'Olympus non è una squadra che ha poche qualità, anzi tutt'altro sono ragazzi giovani che hanno grande carattere, hanno grande energia quando giocano e credo che oggi i risultati che hanno fatto è una testimonianza che comunque è una squadra di valore, è una squadra che è molto difficile da affrontare, però oggi guardo in casa nostra, sono contento della prestazione, sono contento dei ragazzi, sono felice per loro perché comunque non è stata una settimana facile, hanno reagito con grande carattere, grandi uomini quali sono.